Aumenta il numero di bambini obesi nonostante aumenti anche la loro attività fisica, che però rimane sempre troppo poca. Ma il dito va puntato anche contro l'alimentazione, troppo ricca di grassi, sale e zuccheri. Sono i dati che emergono dall'annuale monitoraggio dell'Ulss 2 marca trevigiana fatto su un campione di 450 alunni della terza elementare in 26 istituti scolastici della marca. Secondo il report Occhio alla Salute, il 23% dei piccoli trevigiani è in sovrappeso e di questi l'8% è già obeso, un problema che a lungo andare peserà sempre più sul sistema sociale e sanitario, causando agli adulti non solo problemi cardiovascolari e di diabete, ma anche possibili tumori a colon, fegato e pancreas. Il problema è non fare diventare i bambini oggi normopeso degli obesi in età pediatrica, quindi bisogna sicuramente curare l'alimentazione, le regole che sono anche quelle poi della dieta mediterranea, quindi l'abbondanza di frutta, di verdura, di legumi, di pesce, riducendo invece quelli che sono considerati cibi spazzatura e poi aumentare quella che è l'attività motoria. Oggi ancora il 30% dei bimbi non fa colazione tutte le mattine e il 74% mangia troppo a merenda. Quasi il 60% non mangia frutta e verdura a sufficienza, ma gradisce invece snack salati e dolci. Poi c'è il gender gap, i bambini fanno più attività fisica delle bimbe e l'ereditarietà, facile che genitori obesi crescano figli obesi. A settembre partiranno due progetti nelle scuole, uno per l'uso consapevole dei device elettronici che rubano tempo alle attività fisiche e fanno mangiare compulsivamente, uno invece dedicato all'alimentazione consapevole. Sappiamo che i bambini hanno più difficoltà a mangiare verdura, mi piace meno, però appunto per favorire questa alimentazione, che sappiamo essere positiva per la salute, quello che viene proposto agli insegnanti sono dei laboratori sia educativi ma anche sensoriali appunto per favorire questo, venire a contatto con sapori che possono essere all'inizio non tanto gradevoli, ma poi possono essere utili e poi piacere alla fine.